È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Iguain, in area di rigore. Iguain supera Andanovic e mette il pallone fuori. Questa è un contrato. Prima cambiare marcia. Beresic l'ha vinta per rientrare e andare al cross. Può trovare sul pallone e entrare in area. Beresic dentro! E il pallone in rete ha segnato l'Inter. L'Inter è in passaggio. Il pallone libera dalla marcatura. Palla dentro per Quadrado che cerca il costello e trova il gol. Fischio a un salto. Di pallone a parte, il calcio di punizione. C'è più un colpo di testa. Iguain! C'è più un colpo di testa.